In questo video vedremo l'utilizzo del Canon TX20P, il nuovo tonometro a soffio opachimetro della Canon. La prima cosa da fare è posizionare il paziente sulla mentoniera con gli occhi all'altezza delle due tacche di riferimento. Dopodiché andiamo a inquadrare nel display il primo occhio con il quale cominceremo. Basta inquadrarlo, non è necessario essere centrati, si può essere anche sfocati e decentrati. Quindi si va a premere semplicemente il tasto Start sul joystick dello strumento. Lo strumento in automatico effettua il numero di misurazioni che noi abbiamo impostato, che può andare da un minimo di 1 a un massimo di 3. Fa le misurazioni di pachimetria, effettua le tonometrie e alla fine, sempre in automatico, si sposta sul primo occhio pronto a ricominciare il ciclo. A questo punto possiamo far spostare il nostro paziente dalla mentoniera. Andiamo a vedere i dati che ci dà lo strumento. Abbiamo la pachimetria e il valore poi pachimetrico preso, la colonna con i valori della tonometria e il valore tonometrico medio e per ultimo il valore che interessa a noi, il correction IOP, cioè il valore tonometrico corretto in base al valore pachimetrico medio rilevato dallo strumento. Sto qua qui. Grazie.